Buongiorno a tutte e a tutti, in particolare ad Anna Maria Capodanno che anche quest'anno ha organizzato questa manifestazione strettamente connessa alle attività dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Purtroppo non ho potuto essere presente con voi, ma vorrei in primo luogo ringraziarvi per questo impegno per un territorio che sta mostrando anche veramente una facilità di creazione di iniziative imprenditoriali da parte di giovani start-upper, ma non solo, di innovatori a tutto campo, anche grazie alle politiche che vengono seguite a livello regionale, a livello territoriale. L'innovazione è un passaggio cruciale per portare il nostro mondo, in particolare quello produttivo, su un sentiero di sostenibilità ambientale, sociale, ma anche economica e dunque istituzionale. I dati che abbiamo presentato nel rapporto ASBIS illustrato recentemente, il 20 ottobre, a Roma mostrano dei segnali molto interessanti per il nostro paese, con una quota di imprese innovatrice che è cresciuta molto nel corso del tempo. Proprio giorni fa, tra l'altro, delle statistiche europee mostrano che anche le iniziative di venture capital a livello europeo hanno sopravanzato quelle che si sono realizzate negli Stati Uniti. Vuol dire che il nostro continente, il nostro paese, alcune regioni in particolare, sono estremamente consce che senza innovazione non si va da nessuna parte. L'innovazione può essere di diverso tipo, può essere organizzativa, può essere tecnologica, può essere una combinazione di questi elementi, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per orientare le nostre attività economiche verso la sostenibilità. Oggi abbiamo tecnologie adeguate, oggi abbiamo proposte anche molto innovative da questo punto di vista, abbiamo bisogno di imprenditori e imprenditrici che siano in grado di mescolare questi elementi e farne un'innovazione per la sostenibilità. Ringrazio ancora gli organizzatori e la particolare attenzione proprio al ruolo delle donne in questa trasformazione del nostro paese, che purtroppo è molto indietro da questo punto di vista. Ed è per questo che iniziative come questo Innovation Village e i premi per l'innovazione sono così importanti, anche per cambiare la cultura del nostro paese nei confronti della parità di genere. Grazie e buon lavoro a tutte e a tutti.